Abbiamo chiesto per il viaggio che ci siamo passati a Rolanda per una riunione interparlamentaria e riunione tripartite di Parlamento di Aruba, Corsau, San Marten e di SESC con Rolanda. Durante la riunione qui ci si tratta di vari temi di interesse comuni e qui ci si tratta di una cosa buona. La cosa importante è per me volerci a dire che la posizione di noi di partito MEPTA per ora tratta di riunioni di reino, di relazione con il reino. E noi ci si tratta di una cosa buona e il terreno a Rolanda che ci si tratta di una relazione di reino, ci si tratta di cooperazione di reino per la base di maturità politica e di rispetto mutuo. E qui ci si tratta di maturità politica come un paese non si tratta di avere problemi, ora c'è un problema non si tratta di solucionare ma si tratta di guardare per un altro che si tratta di solucionare. E ora ci si tratta di rispetto mutuo, ci si tratta di rispetto mutuo ma si tratta di rispetto. E questo è un punto, questa è la linea corretta di tutto la quali noi treze pazienti, non le riunioni di settimana passate. E mi mi sembra che a pesar che il nome di Aruba sta da nia, il nome di Aruba sta ririda in Rolanda, nel contesto di reino, non si tratta di un buon papel, si dimostra che c'è un futuro, c'è un speranza. E qui pronto, è quello che significa un cambio qui in Aruba. E questo è il tema che ho trattato, non è tanto, ma mi sembra che c'è una due parole importanti che ho avuto così, che ho trattato per il Pueblo di Aruba. E per me, è pensionato, quando vive in Aruba e c'è un pensio di Svb di corso. Pensionato è finito, un anno passato, un carto per il biso che si tratta di Pensione a 10% e si tratta di eliminare i Kersti bonus. E se è un anno che è pensionato naturalmente, con un ruolo. Si è pensionato, quando è tempo già a Tia, se si tratta di Biba in Aruba, magari si tratta di un tempo di corso per travi, per la Tia e per l'Altruba. Ma, anche, ci sono gli stanno, quando gli Svb di corso in Aruba non si tratta di a decidire di cortare il diritto di essere che non è viva nel Corsovo. Non so pure di tutto il tema che c'è a livello del governo, se non è barato il governo di Corsovo bisogna ascoltare qualcosa di governo, con il governo devo attenderlo. E il governo di Aruba non mostra nessun interesse per attenderlo, ma non mostra nessun interesse, non fa nessun pensionato in Aruba. Poi ora non so decidire di andare a livello di Parlamento per Parlamento, e mi sembra che il lavoro è buono di ricevere, e non so se parlano con il parlamentario di Corsovo per attenderci il tema che c'è una soluzione per i pensionati. Come va a vincere il trattamento di renda, con noi lavoriamo sempre in un solo paese, e non c'è un'escorrimento per scorrere per altri fondi di SBB. Ma qui c'è un tema più importante che sta nel desarrollo, e spero che il nostro contesto è pronto e positivo per i pensionati in Aruba per i pensionati in Aruba, per i pensionati. Ora guardare i informi qui.